Radio 00, Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami Il nostro gruppo è nato tre anni fa, nel fine 2014, quando entrambi non avevamo niente da fare e abbiamo detto perché non suonare insieme in questi bui pomeriggi di ottobre Esatto Ci siamo trovati molto bene e quindi abbiamo continuato a suonare insieme nei bui pomeriggi di novembre, di dicembre fino allo sgorgare dell'estate 2015, quando è uscito il primo EP nostro Tra l'altro è continuata soprattutto perché una volta cominciati live ci hanno cominciato a scambiare per fratelli, questa cosa ci è piaciuta molto, anche se non siamo neanche parenti E quindi oramai, dopo tre anni, suoniamo solo per questo Esatto Per la gag delle persone che ci chiedono se siamo parenti e non lo siamo Quindi ci dispiace di averti bruciato la prossima domanda No, non lo siamo Ok, i nostri pezzi parlano principalmente di mangiare, di cibo, di sesso e di personaggi cinematografici Che ci ispirano nelle nostre composizioni, quali Carlo Monni, quali Alberto Tomba in Alex Lariete, quali Maurizio Costanzo e Pippo Franco Il web è fondamentale perché è il modo in cui ci possiamo far conoscere davanti al pubblico internazionale Proponiamo una musica internazionale Siamo dei ragazzi internazionali E quindi se non fosse per il web i nostri concerti non basterebbero a far conoscere questo nuovo genere che noi abbiamo rinominato Neomelodicor In quanto noi ci rifacciamo al Neomelodico per la tradizione e per i testi e l'apporto culturale che ha come genere Abbiamo aggiunto il core perché lo suonano un po' più forte ma l'anima, l'anima è sicuramente Neomelodico È quella Ascoltate sempre Radio Zero Zero perché è una grandissima radio fatta da ragazzi fighissimi Ascoltate noi, ascoltate i nostri dischi Siamo dei ragazzi fighissimi E supportate la scena underground pugliese che è la, credo, la più bella e prolifica di Italia È vero, è vero La prima cosa seria che abbiamo detto Supportate l'underground pugliese e andate a vedere i concerti perché sono, ce ne sono delle cose fighissime, delle bombazze E supportate il death metal perché noi ci piace il death metal Radio Doppio Zero Radio Doppio Zero Suona ciò che ami, più suona e più la ami